Guarda, è una cosa bellissima, guarda, aspetta, ritrovo, ma vedete che si apprende proprio tutta la gola così, eh? Comunque, fin lì, guarda, allora, se tutto il nostro controllo è la donna, qui non si è più importante, anche se tutto il controllo è la donna, però con il donna, è una cosa bellissima, guarda, è una cosa bellissima, guarda, aspetta, ritrovo, va bene che si apprende proprio tutta la gola così, eh?